Su Piazza Garibaldi c'è un progetto dell'Università, un cooperativo sociale per riqualificarla, qual è il suo pensiero, che ne pensa? Un progetto su cui si sta lavorando tanto, che io sostengo moltissimo, perché è un'idea molto importante che noi vogliamo e dobbiamo estendere ad altre parti della città, cioè quindi una cooperazione tra le istituzioni pubbliche, le istituzioni culturali come le università, le associazioni del terzo settore, i privati, per prendersi cura dei luoghi della nostra città, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista sociale. Piazza Garibaldi è un grande banco di prova perché tiene dentro tante complessità e noi abbiamo bisogno della cooperazione di tutti per un modello di gestione molto innovativo.